Prima di avviare il video, un gentile promemoria, assicurati di premere il tasto «Iscriviti» e di lasciare un «Mi piace». Grazie. Nel corso dell'ultima puntata di «Diritto e rovescio» su Rete4, si è innescato un acceso dibattito in diretta tra il presentatore Paolo Del Debbio e la giornalista russa Giulia Viti Zeva. La discussione è nata in seguito alla disapprovazione espressa da Viti Zeva per la presenza di bandiere ucraine mostrate da alcuni spettatori in studio. La giornalista di Newsfront ha criticato apertamente la scelta delle bandiere, sostenendo che non fosse opportuna. Del Debbio ha risposto con fermezza, affermando che nello studio sono presenti solo le persone da lui selezionate e che la partecipazione è aperta solo a coloro che accettano le regole del programma. Il confronto ha raggiunto il culmine con Del Debbio che ha invitato la giornalista a partecipare o a lasciare lo studio. Prima della pausa pubblicitaria, il conduttore ha concluso bruscamente con un deciso Mavaftu, manifestando chiaramente la sua frustrazione. La tensione ha reso l'intera trasmissione estremamente coinvolgente, sia che tu apprezzi o meno Del Debbio come conduttore. Condividi la tua opinione nei commenti sotto il video. Non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un like per rimanere aggiornato sulle prossime notizie.